Eccoci qui, un saluto a tutti come è stato, una buona serata da Milanello, la casa dei milanisti su YouTube, mi raccomando commentate numerosi, lasciate un like, iscrivetevi, vi ricordate, prima ero molto più lungo, adesso tutto rapido, rapidissimo anche nel ricordarvi ancora per pochi giorni perché poi arriva l'evento il 10 dicembre, domenica della prossima settimana, vi aspetto per la festa di Milanello, festeggiamo i 100.000 iscritti, festeggiamo il Natale che sta per arrivare, ricorderemo il nostro Carlo Pogliani, ci sarà anche un, oltre che il nostro Fabrizio Lotta, ci sarà anche un videomaker che realizzerà un video, quindi vi rivedrete in un video di Milanello, quindi colleghe e colleghi di QSVS, sarà una serata rossonera, vi aspetto, basta prenotare qui sotto mandando un messaggino dicendo sono Luca, prenoto per due per la festa di Milanello, perché siamo già tanti, oppure prenotate anche da soli, se volete venire da soli, si lega in tempo zero perché siamo tutti rossoneri, ci sarà anche dibattito, vi coinvolgerò, sarà una bella serata. Allora ragazzi, voglio esprimere però in 30 secondi le condolianze a Giorgio Perinetti, che è un grande dirigente di calcio per la scomparsa di sua figlia, poco più che trentenne, la conoscevo, seguiva Milanello, lei lavorava nel mondo dei social, era una ragazza piena di vita, davvero molto solare, abbiamo fatto anche una collaborazione qui su Milanello con Stadeo, e mando un abbraccio anche ovviamente ai suoi colleghi e le dedico un pensiero perché è una notizia che mi ha sconvolto. Voltiamo pagina e ora andiamo sul Milan e ci sono un paio di considerazioni ma una notizia che è letteralmente scandalosa. Non ci volevo credere, mi sembra assurda, mi sembra una clamorosa presa per i fondelli. Innanzitutto partiamo da un dato, che è un dato negativo ma non è questo, nel senso che se non passiamo il girone, a livello economico, possiamo quantificare già un danno, cioè il non aver cambiato prima, il non essere riusciti a fare le cose per me soprattutto nelle prime due gare, il non avere giocatori per fare le partite, il non aver retto la difficoltà l'altra sera ed esserci sciolti con la neve al sole, ci costa che cosa? Oggi la Gazzetta calcola erroneamente in 113 milioni il danno, no il danno secondo me non è quello perché loro considerano su quello che è stato lo scorso anno l'incasso, lo scorso anno però siamo arrivati in semifinali Champions e chi ce lo dice che facciamo lo stesso percorso. Quindi secondo me il vero calcolo deve essere basato sul vai agli ottavi, vai agli ottavi quindi hai la garanzia di fare gli ottavi, loro quantificano i 113 milioni considerando poi il botteghino ogni gara, quindi ottavi, quarti, semifinale, ma è sbagliato quel calcolo, più i premi per ottavi, quarti, semifinale. Il calcolo corretto secondo me umilmente dico è 20 milioni il passaggio del turno tra premi UEFA e botteghino che è sicuro garantito, quindi almeno 20 più il non passare il giro ci costerebbe, usiamo ancora condizionale, anche se dovremmo vincere noi e perdere il PSG, non si sa mai, sarebbe fantastico, magari con il papere di Donna Rumma, visto che è abituato ormai, lo faccio anche la prossima, però questo ci, se non possiamo fare il mondiale per club e sono almeno 45 milioni di euro soltanto per la partecipazione, tradotto non 113 ma almeno 65 milioni di euro di danno, per non aver voluto pagare due allenatori, per aver deciso di non scegliere, per non essere riusciti a intervenire quando si poteva all'inizio sul discorso di infortuni, chiudendo un occhio e l'altro pure perché tanti due infortuni li hanno tutti, ci siamo trovati con una serissima possibilità molto 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 concreta, salvo clamorosi colpi di scena, di perdere 65 milioni di euro. Con 65 milioni di euro ti prendi una punta forte, forte, forte. Quindi chi è causa il proprio mal pianga a se stesso. ripeto, a me del discorso orgoglio, filosofico, abbiamo mandato via Maldini, non possiamo, non possiamo dargli ragione adesso, me ne frega a zero. Anzi avrei apprezzato molto di più, apprezzo molto di più quando qualcuno riconosce il proprio errore, non è facile. Quindi avrei apprezzato molto di più una scelta per loro magari complicata a livello di immagine, ma che sarebbe stata molto apprezzata in termini pratici. Dopodiché non è l'unico che sbaglia Pioli, questo lo voglio dire, però per me è il principale responsabile, perché questa situazione ha zoppato la rosa e poi ha fatto delle scelte spesso clamorosamente sbagliate, oltre che aver perso secondo me la leadership nello spogliatoio e la fiducia da parte dello spogliatoio dell'ambiente. Quindi danno da 65 milioni di euro almeno, perché poi non sapremmo che cosa avremmo potuto fare. Vai anche, passi giro, ne vai quarti, siamo un danno di 85 milioni. Può arrivare anche a 100 se fai un percorso, però è meglio non pensarci in questo momento. Un peccato non andare al Mondiale, perché insomma è tanto. Poi dovrei informarmi meglio, non so se qualora non andassimo in Europa League, credo di sì, andare in Europa League ti porta comunque i punti del ranking, sì. Magari potresti provare a scavallare la Juventus facendo un percorso fino in fondo in Europa League, che per me però, con questo allenatore, in questo contesto, non riusciamo a fare fino in fondo. Quindi anche qui dico, cambiamo perché la stagione si può salvare, siamo a fine novembre, non dobbiamo essere rassegnati a fine novembre, cambiamo adesso, prima che sia troppo tardi, su più fronti, anche i primi quattro posti. Poi, e qui divento non serio di più, sono anche tra l'incredulo, l'imbarazzato e l'arrabbiato. Perché ieri, come sapete, c'è stato il blitz di Furlani con, soprattutto Cardinale a Milanello, c'è stato l'incontro con Pioli e non mi aspettavo colpi di scena, cioè che lo cacciasse, perché avevamo già capito, però mi aspettavo il classico shampoo, la tirata d'orecchie, il cazziatone, scusate l'espressione ma rende molto bene l'idea, concedetemela questa espressione. Invece no, invece conferma, però mi raccomando, col flusione bisogna fare risultato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi decisimo di non decidere, ma non è questa la cosa che mi fa arrabbiare. La cosa che mi fa arrabbiare oggi è leggere sulla gazzetta, ma non perché se lo sono inventato, perché è uscito e questo retroscena trova purtroppo conferme, leggere sulla gazzetta, parola più parola meno, la catena di infortuni viene considerata un alibi e non è addebitata al tecnico. Primo punto. Quindi la catena di infortuni è un alibi. Sostanzialmente ieri il cardinale ha detto, poverino, con questi infortuni capisco che non puoi fare diversamente, non è colpa tua. Cioè, vi rendete conto? Già la parola alibi, se tu dai un alibi a qualcuno, soprattutto su un posto di lavoro, è l'inizio della fine. L'alibi perché i giocatori infortunati è una cosa che io faccio fatica soltanto a pronunciare questa frase. Ma l'aspetto ulteriore, legato al fatto dell'alibi, quindi viene dato un alibi a Pioli, e quindi ne esce ancora più rafforzato, evidentemente, non è colpa sua se i giocatori si fanno male. Il club non ha la prova che sia il lavoro dell'allenatore, e soprattutto i carichi dello staff tecnico, a incidere sul numero degli infortunati. Avete capito bene? Non hanno la prova che sia colpa di Pioli o del suo staff. E quindi, poverini, cosa potete fare più di così? Cioè, vi rendete conto? Non hanno la prova? E quindi, di chi è la colpa? Colpa mia, se si fanno male? È colpa dei calzettoni che sono troppo rigidi e pesanti? È colpa della sfortuna? C'è la nuvoletta sopra di noi? Cioè, questa è una cosa che mi fa imbestialire, di chi è la colpa? Se non è colpa di chi li prepara a livello atletico, di chi li guida nei allenamenti, di chi stabilisce i carichi di lavoro, i recuperi, eccetera, eccetera, eccetera. Di chi può essere mai la colpa? Lo trovo assurdo, è una delle cose più incredibili che mi tocca commentare qui su Milanello. Cioè, proprio ribaltare la verità. Perché? Perché o Pioli li ha intortati, dicendo si gioca troppo, però giocano troppo tutti. O loro si sono fatti intortare, ma non credo, spero di no, oppure, ed è la cosa però molto triste, fa loro comodo far uscire che non è colpa di Pioli, perché? Perché fa loro comodo oggi non sostituirlo. Fa loro comodo giustificare la scelta di proseguire con Pioli. Fa loro comodo dire, perché nel pezzo viene scritto anche, trova conferma, adesso però vogliamo capire meglio. Investighiamo, siamo vigili. Ma non ci avevano detto che con le due settimane di sosta erano state utilizzate per andare a fondo di questa situazione, approfondire quella situazione lì? Non ci avevano detto che avrebbero capito? Io chiedevo nei giorni scorsi che cosa avete capito? Zero. Come si può dire non abbiamo la prova che? Ma la prova è ovvio. Cioè non è che ti lascia segni, che trovi un documento, che trovi qualcosa e dici ah è colpa sua, non c'è la pistola fumante, ma è ovvio ed evidente che la colpa non possa essere né mia, né vostra, né di chi va allo stadio, né del primo che passa per strada, ma di chi sta lì a Milano a prepararli. Purtroppo la mia riflessione è che forse davvero fa loro comodo far uscire questo messaggio per giustificare ulteriormente la conferma di Pioli che fa loro comodo da un punto di vista evidentemente economico e anche di immagine perché Maldini li voleva cacciare o lo voleva cacciare e loro hanno cacciato con Maldini. Lo trovo assurdo di una gravità che mi fa preoccupare perché tu stai portando avanti una relazione completamente distorta perché ti fa comodo e stai dicendo a Pioli che addirittura ha delle ha un alibi. Vi rendete conto? Cioè invece di fargli un mazzo tanto scusate il francesismo anche qui l'espressione no dai con questi ovviamente traduco con questi infortuni non è colpa tua dai speriamo che diminuiscano ciao a me c'è una presa per i fondelli clamorosa questa cioè ammettete che avete sbagliato ammettete che c'è un problema clamoroso ammettete che ci sono responsabilità clamorose e non facciamo finta di nulla perché qui nessuno ha l'anello al naso cioè così diventa anche peggio si può accettare di non vincere ma certe cose non si possono accettare così serenamente non siamo mica fessi quindi ci stanno dicendo che gli infortuni Mr. X ma non Pioli il suo staff è una cosa che mi no è una roba e poi da loro dice avete un alibi quindi fuori il messaggio è non rompete le scatole a Pioli non ha colpe io mi arrendo mi arrendo ma questa cosa qui non sta né in cielo né in terra cioè rende ancora più amaro il momento oltre al danno la beffa qui ditemi voi se è una chiave di lettura invece corretta perché magari sono io su un altro pianeta intanto rischia probabilmente di costarci tutta questa cosa 65 milioni però non ci sono prove che sia Pioli eh sì la prova cos'è cioè dobbiamo vedere che che va lì col martello sul ginocchio o sulla gamba per far male quella deve essere la prova ma dai ma non scherziamo no 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 non va bene non va bene sono purtroppo ripeto tra l'incredulo l'imbarazzato e non l'arrabbiato di più leggero i vostri commenti lasciate un bel like commentate vi aspetto alla festa mi mandate il messaggino e ci scateneremo anche con le discussioni un abbraccio vi rimando al video di questo orario di pranzo guardatelo ciao